Il terzo video che giro oggi su tre cose totalmente differenti, ho fatto definizione di logaritmo a scopo mio personale perché è un alunno, l'ho già detto, che è inserito in quarta informatica, non ha fatto l'anno scorso i logaritmi, viene da un'altra scuola e gliel'avevo promesso. Seconda lezione di logica perché ho iniziato il filone della logica, terza lezione che faccio oggi, registro, poi finalmente vado a riposarmi un po' perché stamattina ho avuto tante ore, funzione inversa perché la sto facendo in terza liceo, ho fatto in quarta informatica, levo gli occhiali, li levo, tanto, fra poco devo scrivere. E quindi volevo tenere un po' il passo di quello che appunto sto facendo a scuola, silenzio, cellulare. Allora, dunque, funzione inversa, colleghiamo il nostro schermo così non mi vedete più che oggi sono tra poco riposo, che poi stasera ho un po' di cose mie, allenamenti, canto, di tutto. Allora, dunque, come ho già detto ai miei allunni, sarebbe facile definire la funzione inversa. La funzione diretta è quella che va da x, y e la chiamiamo per esempio f, per esempio io l'ho detto, ogni funzione, se io sto facendo un esercizio, vi nomino una funzione, viene chiamata con un nome, il nome più comune è f, nomi piccoli, se no altrimenti g, h, cioè, come ho detto stamattina nella mia classe, non è che quando io ho avuto i figli gli ho dovuto dare un nome, gli ho dato un nome esclusivo, gli ho dato un nome, Mirko a uno, Nicolò a un altro, che però di Mirko e di Nicolò ce ne sono tanti in giro, non sono solo loro. Normalmente, se si deve dare o scegliere un nome a una funzione, la si chiama f. La funzione inversa è quella che passa dalla y alla x e viene di solito nominata con un meno uno. Ho fatto una raccomandazione in tutte e due le mie classi, quando vedete la meno uno non ha niente a che fare con il meno uno della potenza, 3 alla meno uno significa un terzo, ed è una cosa, f alla meno uno non significa uno fratto f, assolutamente no. Se voi avete la funzione x, y uguale a x alla seconda, la f alla meno uno non è uno fratto x alla seconda. Ho avuto una volta una collega che faceva l'esterna come me nella stessa scuola di matematica, un po' di anni fa, dove c'era una funzione e poi parlava della f alla meno uno e lei continuava a dire che era la uno fratto, quindi il grafico bisognava fare, no, non è così. La f alla meno uno è quella che passa dalle y alle x. Allora, per esempio, se la funzione fosse questa, all'unico che devono scrivere come l'inversa, cercheranno di esplicitare la x in funzione di y. Quindi, se y è x alla seconda, x alla seconda è uguale a y. Chi è l'operazione inversa del quadrato? Mettere sotto radice quadrata. Poi adesso ne parleremo se mettere il più o meno un più o meno, non metterlo, adesso ne parleremo un po' meglio. Cioè, in pratica, nella funzione diretta, da 2 si arriva a 4, da 4 si arriva a 16, nella funzione inversa, da 4 si arriva a 2, da 16 si arriva a 4, eccetera, 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 eccetera. Allora, un po', però, allora, spiegato a livello di scuola professionale, di proprio potrebbe bastare così. In realtà bisogna un pochino approfondire quest'argomento. Vabbè, come ho già detto, innanzitutto, le funzioni inverse, bisogna cercare la x di esplicitarla in funzione di y, ok? Poi, quando arrivate alla funzione, la cosa strana che non capiscono tante volte gli alunni, che il risultato sul libro vedono scritto y uguale a radice di x, perché questa è come è fatta la funzione. La funzione potete usare anche dei nomi diversi. Potete anche dire, tizio è la radice quadra di Caio, ok? Cioè, non è importante che nomi abbiano, è come è fatta la funzione. La funzione è come è fatta, è quella che mette sotto radice. Di solito, in Italia, quello che sta a sinistra, nei libri italiani, quello che sta a sinistra viene chiamato y, e y in funzione di x, normalmente. In Italia viene detto così, però io ho detto anche ai miei ragazzi, guardate che quando poi studiate la matematica per le altre materie, non è che avete sempre x, y, potete avere s, t, s è in funzione del tempo, nella fisica, nelle leggi odarie, lo spazio è in funzione del tempo, s, t, s è la nostra y, t è la nostra x, tanto è vero che sugli assi cartesiani il tempo lo mettete sull'asse orizzontale e lo spazio lo mettete sull'asse verticale. Quindi l'importante è prima trovare come è fatta la funzione inversa. Dopo che l'avete trovata, l'elemento a sinistra lo tornate a chiamare y, l'elemento a destra lo tendete a chiamare x. Questo è un piccolo problema. Faccio un altro esempio. La vostra funzione, per esempio, è x meno 1 tutto moltiplicato per 2. Io devo ricavare quanto è x, quindi innanzitutto scioglierò la parentesi che vi verrà quindi 2x meno 2. Poi cerco di esalare la x, 2x uguale, porto di là il meno 2, diventa y più 2, leggendo il contrario, no? 2x uguale y più 2. E poi divido tutto per 2 e scopro che la mia funzione inversa, quando io parto da y per arrivare a x, cosa devo fare? Il contrario di quello che ho fatto prima, cioè devo prima aggiungere 2 e poi dividere tutto per 2, ok? Allora, quando sono arrivata alla formula, dico la mia funzione quindi è y uguale x più 2 fratto 2, perché normalmente noi le variabili indipendenti, dipendenti, quelle che scriviamo a sinistra, che dipendono da quello che c'è scritto a destra, le chiamiamo y, ok? Questo è un altro esempio che vi ho fatto. Problemini. Allora, io vi ho detto, con i diagrammini di Oleroven, che se voi per caso avete una situazione del genere, nessuno vi impedisce a dire che questa sia una funzione. L'unica cosa è che non è una funzione iniettiva, perché basta una coppia di valori diversi che fornisce la stessa immagine, quella è funzione ma non è iniettiva, come anche il fatto se esistesse nell'insieme d'arrivo qualche elemento che non è immagine di nulla. Questa è una funzione tranquilla. Il problema è sull'invertibilità, perché questo dove va a finire? E vabbè, è lì ancora ancora, si dice, vabbè, le y che non sono immagini di nulla, le eliminiamo, quando facciamo l'inversa le eliminiamo. Ma questo problema? Bisogna restringere il campo di esistenza. Allora, un esempio tipico è la funzione che vi ho detto prima, la funzione y uguale x alla seconda, perché a è una parabola il cui grafico è fatto così. Ok? È la parabola il cui grafico è fatto così. Come vedete, tutte queste y, tutte le negative, non sono immagini di nulla. Nel contrario, non lo eliminiamo le y. Quando dobbiamo fare l'inversa, a queste y non sono associate nulla, togliamole dal campo di esistenza. Allora, fare l'inversa vorrebbe dire che è un po' come se quest'asse lo facciamo finire qua e quest'asse lo facciamo finire lì, come se ribaltiamo, no? L'asse x va a finire sopra e l'y sotto. Però la vostra funzione diventerebbe così e non è una funzione. Ok? Allora, per poterlo fare, restringiamo il campo, proprio anche il dominio. Prendiamo, per esempio, solo questo pezzo qua, per cui per noi, per esempio, l'1 va a finire in 1, il 2 va a finire solamente in 4. Quindi, quando voi avete 4, l'immagine di 4 è solamente 2. È come se noi questa qui l'avessimo eliminata per poter fare l'inversa. Allora, tanto è vero che, lo diceva, l'avevo prima, te l'ho qui, l'operazione inversa del quadrato è la radice quadrata. Tecnicamente, se io ho come y4, i numeri che al quadrato danno 4 sarebbero più o meno 2, però per far diventare la funzione inversa una funzione, dobbiamo dire che la radice di 4 è solamente 2, perché, se no, non sarebbe l'inversa, non sarebbe l'inverso di 4, se questa è la funzione x al quadrato, dobbiamo dire che è solamente 2, se no, altrimenti, l'inversa non risulterebbe una funzione. Quindi, per cui, quando voi vi vedete in una funzione scritte delle radici, sappiate che questa radice è la radice, quella che si chiama in termini matematici, aritmetica, cioè quella positiva, cioè quella che vi fa la calcolatrice. La calcolatrice, quando voi inserite radice di un numero, non vi dice più o meno, vi dice solamente più, perché la calcolatrice calcola delle funzioni, vi deve dare una risposta. esempio per i più bravini, cioè per i più bravini, per chi sa un pochino più di matematica, funzione seno e funzione sin alla meno 1. Ecco, anche lì, la calcolatrice vi mette, la calcolatrice scrive il tasto sin e sopra vi scrive sin alla meno 1, vuol dire che non è il seno, il reciproco, non è che se faccio seno di 30 viene un mezzo, sin alla meno 1 mi viene 2, no, è un'altra cosa. Il sin alla meno 1 vuol dire che sto calcolando chi è l'angolo, cioè se io da 30 gradi, o pi greco sesti, meglio pi greco sesti, vado a finire con la funzione seno di un mezzo, sin alla meno 1 di un mezzo, è l'angolo di pi greco sesti. Allora, il grafico del seno sappiamo tutti, per almeno chi ha fatto trigonometria, sa che il grafico è fatto così e ovviamente non è una funzione iniettiva, perché già solo, non c'è solo il 30 gradi che dà come seno un mezzo, c'è anche il 150 gradi. Allora, la calcolatrice, noi facciamo una restrizione del dominio, la consideriamo solo qua, da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Quindi, se viene dato un seno positivo, un mezzo, la risposta è un angolo che sta tra 0 e pi greco mezzi. Se viene dato un valore negativo, viene dato come risposta un angolo che va da 0 meno pi greco mezzi, che sarebbe il quarto quadrante, per noi che non siamo geometri, il seno di un mezzo è nel primo quadrante, eh sì, il seno di un mezzo, un seno positivo è un angolo che va da 0 a pi greco mezzi, un seno negativo è un angolo che va da meno pi greco mezzi a 0, e non le altre risposte. Per i geometri, invece, il seno è l'orizzontale, quindi loro partono da qua, seno positivo, un angolo è un angolo che va da meno pi greco mezzi a 0, ok? Perché si fa una restrizione in questo pezzettino, la vostra funzione seno in effetti è iniettiva, suriettiva, ovviamente, se consideriamo come insieme delle immagini possibili, solo i numeri che vanno da meno 1 a 1, ok? Allora, ho finito tutto, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, tasto campanella, funzioni inverse, per calcolare una funzione inversa, ripeto, dovete essere bravi a fare i passaggi inversi, una cosa, per esempio, che è un fattore, passa dall'altra parte dell'uguale come denominatore, una cosa che è denominatore, passa dall'altra parte al numeratore, una cosa che è addizionata, passa dall'altra parte sottratta, l'inverso delle radici sono i quadrati, l'inverso dei quadrati sono le radici, l'inverso dei cubi sono le radici cubiche, l'inverso di un esponenziale, e alla x è il logaritmo, e così via, dovete cercare di ricavare la x in funzione di y, e poi quando ci l'avete fatta, che avete scritto x uguale a f di y, però tornate ai ruoli iniziali, come se io se girassi gli assi, l'asse y va a finire al posto della x, l'asse x va al posto della y, però poi si ricambia il nome, tu y sei diventato una x, adesso ti chiamerai x, perché in Italia si usa la y in funzione di x, ok? Tasto da un campanella, e arrivederci alla prossima puntata, come si dice di solito. Ciao a tutti!